eravamo rimasti giusto esclamò francesco infervorato mia fede devo andare all'asilo con il cognome del padre come tutti gli altri bambini questa storia è durata anche troppo a lungo disse con decisione esigo solo il mio buon diritto di genitore e nessuno me lo può negare proprio così lo sostiene cantalupa adesso vai a parlare e parlare con fermezza se lei sarà così fare da opporti un rifiuto mandala da me che la convinco io francesco uscì decisa e confortato dalla casa di giovanni cantalupa la piega delle cose e altre particolari credo che a un certo punto del suo affanno mia mandra pensa di portarmi con sé finché il riconoscimento non sembra essere fatto contro la sua volontà forse fra i molti opposti pensieri che fece ci fu la speranza folle di indurre francesco a un ripensamento dico queste cose che mi appaiono nella memoria lontanissima e nitida come la scia di luce lasciata dal remoto passaggio delle stelle perché mia madre mi parlò a più riprese la sera mentre stavo malato chiara chiedeva cautamente vuoi bene a francesco si molto 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 quanto domandava con leggerezza come stessimo facendo un gioco molto tanto rispondevo contento tanto quanto insisteva quanto ne vuoi a rosina di più quanto ne vuoi a maurina di più quanto ne vuoi a me come a te nessuno dicevo senza esitazione un'altra volta mi aveva chiesto se mi sarebbe piaciuto avere francesco come padre vieni a vivere a casa nostra domandai per tutta la risposta ma no si impenna lei come ti viene in mente il silenzio nella stanza dura qualche secondo poi disse che voleva un bacio e io mi lanciai nella sua braccia e un'altra volta riprendendo il discorso lasciato sospeso mi domandò se mi piaceva che vivessimo da sole o se avessi preferito che qualcun altro abitasse sempre con noi per farci compagnia di se ridendo il mio istinto infantile unito al bisogno ocultissimo di compiacerla mi facevano intuire che quello era un terreno minato e che avrei dovuto essere molto accorta nella risposta lei disse che mi piaceva vivere con lei sola con me chiese di nuovo si rispose in quei giorni mia madre era scontenta le tracce del suo humor nero si spandevano come la polvere su tutte le cose quando lei era così sembrava che non riuscisse a far nulla e anche le incombenze più semplici quelle che svolgeva con la scioltezza dell'abitudine svelavano il loro carattere di pesantezza io mi aggiravo per la casa con l'animo impacciato attento a non fare niente che potesse aggiungere la fatica ogni tanto nelle mie peregrinazioni intorno a lei incontravo il suo sguardo a sorte e ricevevo un sorriso distratto allora giocavo un poco con la bambola e speravo che arrivasse presto Francesco ma ormai lo sapevo non arrivava prima del pomeriggio perché la mattina lavorava al consorso agrario e non era più libero come la volta su spira popicinando la bambola e la scritta grazie